Noi gli facciamo i complimenti perché da quando è rientrato Jabba si sono viste tante belle cose. Oggi ne parlavamo con Colombo, un Pescara con Jabba o un Pescara senza Jabba nella seconda parte di gara? Sono molto felice di questo andamento perché abbiamo ritrovato anche lo spirito giusto, stiamo facendo anche abbastanza bene. Dobbiamo continuare così e non cercare di restare in alto così e non cercare di affondare di nuovo. Però non è stata una partita positiva nel complesso, ci si aspettava di più? Sicuramente ovviamente, però non era facile su questo campo che non ci dava modo di giocare. E questo non era buono? Non era bellissimo, però non troviamo alibi, potevamo fare meglio di sicuro e pensiamo già alla prossima partita. Qualche mese fa quando abbiamo fatto la trasmissione a Cennacon ci avevi detto esplicitamente io mi trovo meglio nel centrocampo a due, ti ricordi? L'hai dimostrato? Sì, però in qualsiasi modo posso fare bene lo stesso. Quindi se puoi scegliere tu a due, confermi? No, preferirei a due ovviamente, però se bisogna giocare a tre, gioco lo stesso. Ti chiedo un'ultima cosa, poi non so se c'è qualche domanda da Fabio e Massimo in studio. In quel mese abbondante che Colombo ti ha tenuto fuori per scelta tecnica perché aveva accusato un calo, cosa hai pensato? Come hai fatto a ritornare così forte e con così tanta energia? Che era successo? Ma le scelte del mister non si può discutere, mi ha detto che mi aveva visto giù negli allenamenti e ci sta. Quindi bisogna star zitti e lavorare di più e ricercare di prendersi spazio in campo. Proprio l'ultima da parte mia, l'ammunizione che hai dovuto spendere ti ha un po' condizionato ad inizio secondo tempo, visto che non inseguivi più l'avversario con la stessa energia di sempre. Sì, ovviamente, perché non volevo rischiare come a Monterosi che è successo uguale, sono stato un po' più attento. Ecco l'auricolare per Emanuele Giabua, Massimo, quindi vi ascolta Giabua. Fabio Ferraresi. No, io volevo chiederti dal campo perché poi noi da qua parliamo ed è facile parlare dalla seggela. Abbiamo visto una squadra che vi ha messo in difficoltà dal punto di vista del ritmo. e tu dal campo cosa mi puoi dire in merito, dal punto di vista fisico, forse erano un po' più aggressivi, stavano un po' meglio di voi oggi o c'era proprio qualcosa di tattico che vi impediva di andare sulle traiettorie di passaggio o di non riuscire a fare la partita come magari avevate pensato prima. Ma diciamo che l'avversario non era facile da battere perché era ostico, cioè di sicuro la classifica non è giusta perché non penso che sono da ultimi in classifica e sono stati bravi anche loro a metterci in difficoltà però diciamo che il pareggio ci sta tutto.